Quando si è liberato, mi è bella la cassa, forse alzà. Ma se ne ha, si schizza dentro e si schizza, eh? Ma come si fa? Se li giravano tre volte, veniva un fulmine. 23 caprioli catturati nel parco mediceo di Pratolino e poi rilasciati in zona dell'Appennino dove è vietata la caccia e 18 agenti della Polizia della città metropolitana di Firenze. Sono i numeri di uno speciale intervento a tutela del parco e degli animali stessi che si è tenuto l'8 febbraio, con il coordinamento della Polizia metropolitana e la collaborazione degli operatori della protezione civile della metrocittà, guardie volontarie e agenti della ex Polizia provinciale in pensione. I dettagli dell'operazione dalle parole del vicecomandante Marco Casini. Stiamo facendo un intervento di cattura sul capriolo, autorizzato dalla regione toscana, all'interno del parco di Villa Demidov. L'autorizzazione è stata data perché il capriolo, essendo il numero eccessivo all'interno del parco, danneggia le messe delle piante, cioè i ributti delle piante. E quindi, visto che tutto il lavoro è stato fatto per la risistemazione del parco, era importante togliere un certo quantitativo di caprioli. Abbiamo utilizzato il metito con rete a caduta, che sono alte due metri, e l'abbiamo stese per circa un chilometro e mezzo, e abbiamo steso un altro chilometro di teli bianchi per chiudere in settori il parco. Gli animali poi vengono spinti verso le reti dai battitori. Vicino alle reti ci sono del personale che interviene al momento in cui il capriolo si imprigiona all'interno della rete. Il capriolo viene liberato, viene bendato, viene messo subito dentro una cassa e trasportati. Gli animali vengono tutti trasportati all'interno del demanio, nella zona dell'Appennino. Ci è arrivato a mille sto ieri. Ci è rimasto un altro anche di su. Sì. Si sentirà... È solo perché l'hai scritto, eh. Non ti credi che venga via meglio? Ok. Ok. Vai. Reggilo, eh. Reggi le gambe ora, queste qui. Queste. Queste ci sono. Vai. Liberato, non vado a punti. Sì. Mettaci un altro. Aspetta, aspetta perché... C'ho ancora la rete, fermi, eh. C'ho ancora la rete. Qua? Sì? Bravo. Tu te stai. Lasci le gambe indietro di me. Levo? Vai. Si leva. Leva. Vai. Tira piano piano. No, ecco. Così. Tenta la mano, eh. Il gru sotto anche, eh. È una bella animale. Vai. Puoi portare qua qui, nico sulla piera, no? No, ma non ti ho capito là qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.